Ciao amiche, il video di oggi è dedicato a tutte noi, in particolare a quei giorni. Ogni mese sono dolori, ma non deve essere così. Lo so, ci hanno abituate che il ciclo è per forza qualcosa di doloroso e fastidioso, che porta mal di testa, dolori, crampi, gonfiore, sbalzi di umore. E per molte amiche è così. Per fortuna l'alimentazione giusta può darci una mano. Per sapere come fare, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Poi, se volete un coaching di naturopatia con me per la vostra situazione specifica, contattatemi dal link che trovate in descrizione. Adesso, ecco la dieta per il ciclo mestruale. Si tratta di consigli scientifici confermati da recenti studi svolti anche in Italia. Nella fase iniziale del ciclo, quando ci sentiamo cariche e piene di energia, si possono consumare cibi ricchi di ferro e vitamina C per un assorbimento migliore, contro la ritenzione largo a cibi drenanti e detox come sedano, zucchine e cetrioli. Ci sono tanti alimenti e rimedi naturali a favore della sindrome premestruale. Li trovate tutti nell'ebook che ho scritto su questo argomento, il cui link è in descrizione. Anche lo sport non deve mancare, perché aiuta a tenerci in forma e positive. Quando sentiamo che il metabolismo rallenta, ci sentiamo stanche, senza forze. È il momento per fare alcuni aggiustamenti e secondare il corpo. Continuiamo a fare sport per tenere alto il metabolismo e soprattutto bruciare le calorie in eccesso, che potrebbero accumularsi a causa della fame e della voglia di dolci. Ecco, e per le voglie peccaminose? Ecco come fare. Per la voglia di dolce bene la frutta fresca. Per chi non resiste al cioccolato, rigorosamente fondente almeno al 70% e senza zucchero bianco. Per chi proprio ha fame, stare leggere con proteine magre, grassi vegetali come avocado e frutta secca. Alla larga da formaggi, salumi, carni rosse e ovviamente cereali raffinati. Sul canale trovate un'intera playlist dedicata al benessere femminile. Per vederla iscrivetevi al canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Se YouTube non vi avvisa, andate nella home del canale perché pubblico ogni giorno. Vivi consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!